Sì, sono molto soddisfatto perché ho cercato di tirare fuori la propria femminilità che ogni donna è dentro e che la vuole tirare fuori. Hai già partecipato ad esperienze simili? Sì, ho partecipato in vari concorsi, questo è stato veramente bellissimo, mi piace mettermi in competizione, mi piace cercare sempre di nuove esperienze. Perché devi vincere tu il contest? Penso che ho fatto un bellissimo lavoro, ho fatto più un taglio personalizzato, ho cercato proprio di lavorare sulla persona. Secondo me ci sono riuscito, è uscita fuori la sua personalità. Grazie. 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 Grazie.